Quello che era sottinteso, ciò che era l'orizzonte del mio piccolo intervento, era teso a mettiamo da parte le differenze proprio rispetto a questo strabismo che le due tornate hanno messo in evidenza, tra l'altro eco di uno strabismo più generale, più ampio e cerchiamo il bene possibile, l'altra parte la politica è questo, cercare il bene possibile, il rischio grande e grave può essere quello di una ingovernabilità e questo non va a beneficio di nessuno, va a detrimento di tutti, in particolare delle fasce più deboli che hanno bisogno di un riferimento e anche di qualche risposta. Succede nella Chiesa e nella società quello che accade nelle famiglie, e cioè che le generazioni si ignorino, vivano insieme ma ciascuno fa i suoi ritmi, i suoi tempi, non ci si incontri neanche a tavola. Tanti tornano nei loro paesi, anche dall'estero, in concomitanza con le feste patronali, quindi diventa anche un momento di riaggregazione, di ricongiunzioni di famiglie, di incontri, di ponti che si stabiliscono, si gettano tra culture diverse, tra persone che lavorano e vivono altrove e che sentono questo richiamo della foresta, che è come una sorta di richiamo ancestrale legato a emozioni, forse dell'infanzia, a momenti celebrativi, a processioni.